Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo nutella e crema al mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono biscotti, mascarpone, nutella, panna fresca per dolci, zucchero a velo, latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere 40 g di zucchero a velo e la panna e montare a velocità 3,5 g senza tempo e senza misurino. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale e senza farfalla mettere il mascarpone. 60 g di zucchero a velo ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Trasferire nella ciotola con la panna ed amalgamare bene. Trasferire la nutella in una sacca poche. Abbiamo rivestito uno stampo da plum cake con della pellicola trasparente. Adesso bagniamo i biscotti nel latte e posizioniamoli nello stampo. Mettere uno strato di crema e livellare bene. Mettere la nutella e coprire con i biscotti bagnandoli nel latte e proseguire così formando altri due strati. Coprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il semifreddo dal congelatore rigirare su un piatto da portata e rimuovere la pellicola. Abbiamo sciolto a bagnomaria un po' di nutella adesso a decorare il semifreddo. Spolverizzare con granella di nocciole. Riporre in congelatore per 30 minuti prima di servire. Semifreddo nutella e crema al mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta! Riporre in congelatore per 30 minuti prima di servire. Riporre in congelatore per 30 minuti prima di servire. Riporre in congelatore per 30 minuti prima di servire. Riporre in congelatore per 30 minuti prima di servire. Riporre in congelatore per 30 minuti prima di servire. Riporre in congelatore per 30 minuti prima di servire. Grazie a tutti.